Buon pomeriggio! Siamo con Giovanni Antonio Brancatisano, uno dei fabbri più amati di Samo. Cosa stai facendo, Giovanni Antonio? Una ringhiera. Una ringhiera. Cosa stai... Eh, guarda. Precisamente questo che lavoro è? Sì, è la revisione dei pezzi. Ah, ho capito. Da quanto è che lavori? Cioè, da quanto hai imparato l'arte? Da plantare. Eh. Che età avevi? Quando hai iniziato? Eh, avevo... Prende a dove? Ah, ecco. È una pressione che coltivi da anni, insomma. E qual è, diciamo, il lavoro che preferisci fare come fabbro? Oltre le ringhiere? Hai qualcosa in particolare? Tutto, tutto. Tutto? Un balcone? Tra un balcone e una ringhiera? C'è un gel, c'è una scala, c'è una scala, c'è una scala, c'è una scala, c'è una scala. Sì. Ah, ecco. È un lavoro di precisione questo. Un tantino, sì. Va bene, ti lascio il tuo lavoro. Vuoi salutare i nostri compaesani? Grazie, lascio. In tutto il mondo, agli australiani di Melbourne, soprattutto, che ci seguono con tanto amore? Grazie a tutti. Va bene. Ciao, grazie. Ciao Giannatore, buon lavoro. Grazie.